È un'esperienza di vita unica a esplorare quanto più possibile il nostro bellissimo pianeta. E questo impulso interiore è sentito non solo dagli avventurosi, ma un po' da tutti. Il problema è che in mezzo alle bellezze del nostro mondo si nascondono anche dei pericoli. Quelli che andremo a vedere oggi in questo video sono 4 luoghi che dovreste evitare di visitare. Perché considerati tra i luoghi più pericolosi al mondo. Ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Come sempre vi ricordo che se vi piacciono le storie incredibili e misteriose, lasciate un bel like e un commento a questo video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi nessun video. Ma ora, non perdiamo altro tempo, iniziamo subito. Mamma mia che ansia terribile! Quella che state vedendo in questo momento è l'isola di Chiamata Grande, chiamata anche Isola di Serpenti. Si trova a 35 km dalla città di Peruibi, nello stato di San Paolo, in Brasile. Come avreste intuito dal suo soprannome, è un'isola in cui ci sono tantissimi serpenti. Pensate che c'è un serpente ogni metro quadrato. In pratica, in qualsiasi punto dell'isola ti trovassi, saresti sempre a un metro di distanza da qualcosa che potrebbe ucciderti. Quest'isola è l'unico habitat in cui è presente uno dei serpenti più velenosi al mondo. Il ferro di lancia dorato, anche chiamato Vipera Dorata. Questo serpente deve il suo nome alla colorazione della sua pelle. E visto che vive soltanto su quest'isola, quindi in un'area non abitata da umani, non sono mai stati riportati casi di avvelenamento ufficiali. Ma Ludwig Tritnau, un biologo tedesco, sostiene che quattro persone siano state morse da questo serpente e tre di loro siano morte a causa del veleno. Attualmente il governo brasiliano permette l'accesso all'isola soltanto alla marina brasiliana, che si ferma una volta all'anno per la manutenzione del faro, che ad oggi è automatizzato, e a gruppi di biologi che studiano i serpenti. Alcune volte provano a metterci piede anche i contrabbandieri di animali per prelevare i serpenti e poi venderli. La vipera dorata, per esempio, essendo un animale molto raro, viene venduta al mercato nero ad un prezzo stimato che va da 10.000 a 30.000 dollari. Nel 1900 si dice che uno sfortunato pescatore si è sbarcato sull'isola in cerca di banane, e mentre era vicino agli alberi per prendere le banane è stato morso da un serpente. È corso via ed è riuscito a tornare al suo peschereccio, solo per essere stato ritrovato due giorni dopo sulla sua barca, in una pozza di sangue, e con morsi di serpente su tutto il corpo. Dal 1909 agli anni 20 hanno vissuto poche persone sull'isola e soltanto per gestire il faro. Secondo un altro racconto locale, l'ultimo guardiano del faro, insieme a tutta la sua famiglia, è morto quando un gruppo di serpenti sono strisciati nella sua casa entrando dalle finestre che erano aperte. Il Blue Hole è una dolina marina profonda circa 120 metri, situata lungo la costa est della penisola del Sinai, qualche chilometro a nord di Dhab, nel golfo di Aqaba. Osservando il Blue Hole dalla superficie, a circa 6 metri di profondità c'è un bacino circolare, ampio dai 50 agli 80 metri, noto come la sella, che buca il fondale della barriera corallina fino a una profondità di circa 70 metri. Immergendosi in esso è visibile su un lato l'entrata di un ampio tunnel, detto l'arco. Il Blue Hole è noto per il gran numero di incidenti che si sono verificati lì, tanto da essere considerato oggi il luogo di immersione più pericoloso al mondo, e si è guadagnato proprio per questo il soprannome di cimitero dei subacquei. Eppure migliaia di persone continuano ad andarci ogni giorno, quasi impassibili di fronte al numero crescente di targhe appese sulla scogliera di fronte, che ricordano le vittime. Questi incidenti si verificano spesso per via del tentativo di individuare l'arco, che collega il Blue Hole con il mare aperto. Stiamo parlando di profondità che vanno dai 52 ai 56 metri, quindi ben oltre i limiti di un'immersione ricreativa, che è posto a 40 metri. È quindi un'immersione rischiosa per via degli effetti della narcosità azoto. La narcosità azoto, spesso chiamata anche effetto Martini, si verifica quando un sub scende oltre 30 metri di profondità. Vi risparmio tutti i dettagli tecnici perché non sono un esperto in materia, ma per farvi capire in modo molto semplice quello che succede, userò le parole del dottor James Caruso, medico legale e appassionato subacqueo, che riferisce che man mano che il subacqueo va più in profondità, l'intossicazione aumenta in modo simile a bere più alcol, e proprio come l'alcol colpisce ognuno in modo diverso. Ma nessuno è immune dai sintomi, e se un subacqueo va troppo in profondità, allora perderà conoscenza. Tuttavia è possibile contrastare questi effetti con attrezzature speciali. I sub che non riescono a trovare il tunnel spesso sono soggetti a questa patologia. Inoltre l'arco è difficile da trovare, in quanto nascosto dall'angolazione d'entrata. È lungo circa 26 metri, e c'è spesso una forte corrente contraria che rende difficile il passaggio. Nel caso di questa immersione si parla di immersione tecnica, che prevede l'uso di più di una bombola, di un'adeguata miscela di gas e comunque di un'attrezzatura apposita. L'istruttore Alex Hayes ha riferito, secondo l'articolo di The Guardian che trovate in descrizione, che lui si è tuffato nel Blue Hole innumerevoli volte. E secondo lui l'alto numero di vittime sono principalmente il risultato dell'arroganza di alcune persone. Ha detto infatti che molte persone fanno 100 immersioni e pensano di essere esperte e di saper far tutto. Ma in realtà non sono pronte per quelle profondità. Senza alcun record pubblico è difficile dire esattamente quante persone abbiano perso la vita al Blue Hole. I subacquei di Dahab ne suggeriscono circa 200 negli ultimi anni. Tarek Omar ne sa qualcosa. Ha 53 anni ed è un subacqueo tecnico di Dahab. Omar iniziò a esplorare il Blue Hole nel 1992, affascinato da una leggenda locale che dice che il Blue Hole si è infestato dal fantasma di una giovane ragazza, che vi è intenzionalmente annegata per sfuggire a un matrimonio combinato. Omar è diventato famoso successivamente nel 1997, quando ha recuperato i corpi di due sub. Quelli sono stati i primi corpi recuperati dal Blue Hole. E da allora Omar ha tirato fuori dall'acqua più di 20 corpi, guadagnandosi il soprannome inquietante di raccoglitori di ossa. I subacquei tecnici come Omar nuotano spesso sotto l'arco, ma questo richiede anche molto addestramento. E molte persone non sono disposte a dedicare ore a prepararsi. Come Yuri Lipsky, l'istruttore subacqueo russo. Probabilmente quella di Yuri è la morte più famosa nel Blue Hole. Poiché il ragazzo ha registrato la sua immersione, e quindi anche la sua morte, con una telecamera da casco. Omar ha incontrato Yuri circa un'ora prima dell'immersione, e alla sua richiesta di poter fare un video per filmare l'arco, Omar gli rispose va bene, ma prima avrei bisogno di due settimane di allenamento con me, e poi faremo l'immersione e il video. Yuri non aveva tempo, visto che rimaneva in città soltanto per il fine settimana. Quindi rifiutò l'offerta di Omar e partì da solo. Un video di YouTube, visto quasi 5 milioni di volte, mostra gli ultimi momenti di Yuri Lipsky. Nel video si vede che quasi immediatamente si allontana dal suo compagno di immersione, e inizia a scendere verso il basso velocemente. Passa il punto in cui si instaura la narcosita Zoto, e anche se il suo volto non è mai visibile nel video, la sua angoscia è palpabile e inquietante. Ciò che inizia come un'immersione di routine, si trasforma in un dimenarsi in preda al panico, man mano che diventa sempre più disorientato. Nubi di sabbia si alzano verso l'alto, mentre la frequenza respiratoria di Yuri aumenta. Alla fine si toglie l'erogatore dalla bocca, e il video finisce così. La mattina dopo, Omar ha recuperato il corpo di Yuri da 92 metri di profondità. L'elenco delle cose che possono ucciderti nel territorio del nord australiano è lungo. I pericoli per le persone che vivono o visitano il territorio del nord sono tanti, come gli animali, e il primo nella lista di animali mortali nel territorio del nord, e forse il più pericoloso di tutti, è il coccodrillo d'acqua salata. Il 21 dicembre del 2003 era una domenica come un'altra per Brett Mann, un meccanico di 22 anni, e due suoi amici, Ashley e Sean, entrambi di 19 anni. Quella domenica pomeriggio i tre ragazzi hanno fatto un'uscita in quad, in una landa selvaggia tropicale allagata a circa 80 km a sud-ovest di Darwin, la loro città natale. Conoscevano bene quei posti e li visitavano spesso per sfuggire alla monotonia della vita cittadina. Dopo il giro in quad, completamente coperti di fango, hanno deciso di ripulirsi nel fiume Phoenix prima di tornare a casa. Verso le 16.30 i ragazzi sono scesi al fiume, si sono fatti un bagno, hanno lavato i loro vestiti e i loro stivali. Brett si è allontanato un po' di più dalla riva, e ad un certo punto è stato spazzato via dalla corrente. Quindi entrambi gli amici si sono tuffati e hanno iniziato a nuotare dietro di lui. Dopo aver nuotato per circa 800 metri dentro la corrente, i tre ragazzi stavano cercando di risalire sulla terraferma. Ma ad un certo punto Ashley ha iniziato a gridare C'è un coccodrillo, non sto scherzando, c'è un coccodrillo. Usciamo subito dall'acqua e andiamo verso l'albero più vicino. Ashley e Sean sono usciti rapidamente dall'acqua e si sono arrampicati su un albero, mentre Brett era scomparso. Non lo vedevano da nessuna parte, ma non è passato molto tempo, quando è spuntato fuori il coccodrillo con Brett tra le fauci. Il ragazzo non si muoveva, era sdraiato a faccia in giù nell'acqua, e il coccodrillo lo stava afferrando per la spalla sinistra. Si è fatto vedere dei due ragazzi, poi è andato sott'acqua, con il ragazzo ancora tra le fauci, e si è allontanato. Da quel momento nessuno ha mai più visto Brett. L'incubo per i due ragazzi non era ancora finito. Quel coccodrillo di acqua salata, lungo circa 4 metri, tornò alla base dell'albero e iniziò a girarci intorno. I due ragazzi erano terrorizzati, erano intrappolati su quell'albero appena fuori dalla portata di un animale che voleva ucciderli. Passarono diverse ore, ormai era notte e la temperatura era scesa, ma il grande rettile stava conducendo una guerra che non aveva intenzione di perdere. Tuttavia, Sean e Ashley, anche se ancora sotto shock, per aver visto il loro amico sparire tra le fauci del coccodrillo, erano determinati quanto il loro avversario. Sean, in una dichiarazione alla polizia, ha detto, poiché non potevamo vederci perché era buio, avevo la mia mano sul piede di Ashley. Ci controllavamo l'un l'altro e ci assicuravamo che nessuno dei due si addormentasse. Eravamo sfiniti e aggrappati a quell'albero che ha oscillato per tutta la notte perché c'era molto vento e pioveva. I due hanno trascorso 22 ore aggrappati a quel piccolo albero, al freddo e al buio, mentre il coccodrillo non si arrendeva e aspettava pazientemente sotto di loro. Alla fine, verso le 14.30 del giorno successivo, il loro incubo è finalmente finito, quando una squadra di ricerca li ha trovati e li ha portati in salvo con un elicottero. Nonostante una vasta ricerca, Bretman e il coccodrillo non furono mai più visti. Il lago Naios è un lago di origine vulcanica. Si trova nella provincia nord-occidentale del Camerun ed è considerato il lago più letale del mondo. È un lago profondo, situato nel cretere di un vulcano dormiente. Una sacca di magma giace al di sotto del lago, provocando la fuoriuscita di anidride carbonica che va a saturare le acque. Quasi 90 milioni di tonnellate di CO2 vengono caricate nelle acque del lago dallo strato di magma. Una diga naturale fatta di rocce vulcaniche, tiene ferme le acque del lago. Il muro è alto 40 metri e largo circa 45 metri. Nella notte del 21 agosto del 1986, la valle del lago fu colpita da un disastro naturale, che uccise nel sonno più di 1700 persone, oltre che 3500 capi di bestiame. L'eruzione limnica che è avvenuta ha innescato l'improvviso rilascio di centinaia di migliaia di tonnellate di anidride carbonica. La nuvola di gas inizialmente salì dal lago a una velocità di circa 100 km orari, per poi, essendo più pesante dell'aria, scendere verso i villaggi vicini. Spostando quindi tutta l'aria e soffocando così tutte le persone e il bestiame nel raggio di 25 km dal lago. Le acque normalmente blu del lago diventarono di un rosso intenso, a causa dell'acqua del fondo ricca di ferro che è salita in superficie. Si stima che l'eruzione abbia rilasciato circa 1,2 km cubi di gas, e l'incidente è definito come la più grande sfissia su vasta scala prodotta da cause naturali. Gli scienziati stanno ancora discutendo la causa dell'eruzione improvvisa. Alcuni sostengono che sia stato causato da una frana nella regione, altri sospettano una piccola eruzione vulcanica sotto il lago, e anche la possibilità di un terremoto non è del tutto esclusa. Da allora venne installato nel lago un sistema con l'obiettivo di ridurre le concentrazioni di CO2 presente nelle acque profonde. Una curiosità su questo fatto è che le popolazioni indigene consideravano il lago un luogo abitato da spiriti assassini, perciò nessuna delle vittime del disastro era originaria della zona. Oggi il lago rappresenta ancora una minaccia, anche perché la sua diga naturale di roccia si sta indebolendo. Un acqua di affluire nei villaggi a valle e consentendo anche la fuoriuscita di grandi quantità di nitrite carbonica con effetti disastrosi. L'area stimata oggi interessa circa 10.000 persone. Bene amici anche il video di oggi finisce qui, spero che vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi!